i racconti della radiolina di filomeno pasqui asparagi e immortalità dell'anima di achille campanile non c'è alcun rapporto fra gli asparagi e l'immortalità dell'anima quelli sono un legume appartenente alla famiglia delle asparagine credo ottimo lessato e condito con olio aceto sale e pepe alcuni preferiscono il limone all'aceto anche eccellente all'asparago cotto col burro e condito con formaggio parmigiano alcuni ci mettono un uovo frittellato sopra e ci sta benissimo l'immortalità dell'anima invece è una questione questione occorre aggiungere che da secoli affatica le menti dei filosofi inoltre gli asparagi si mangiano mentre l'immortalità dell'anima no questa insomma appartiene al mondo delle idee naturalmente nel caso in esame all'idea corrisponde un fatto da questo punto di vista si può dire che l'immortalità dell'anima è una qualità dell'anima una proprietà peculiare dell'anima un concetto insomma il quale indica il fatto che le anime sono immortali siamo sempre ben lontani dagli asparagi altra differenza è che sono state scritte molte più opere sull'immortalità dell'anima che sugli asparagi almeno credo ancora non tutti credono nell'immortalità dell'anima mentre che degli asparagi e della loro esistenza tutti sono certi nessuno ne dubita eppure la verità è proprio l'opposto si può dubitare dell'esistenza degli asparagi non dell'immortalità dell'anima tuttavia anche così tra gli uni e l'altra c'è un enorme divario ciò senza dire di infinite altre differenze fra quelli e questa vediamo ora se e in quali direzioni si possono ricercare punti di contatto fra gli asparagi e l'immortalità dell'anima questa e quelli possono generalmente considerarsi cose gradevoli difatti se l'anima non fosse immortale nulla resterebbe di noi e questo sarebbe molto sgradevole di tutt'altro genere la gradevolezza degli asparagi e graditi sono al palato mi accorgo che casualmente mi è venuta sotto la penna un'analogia del tutto accidentale fra gli asparagi e l'immortalità dell'anima è capitato cioè di dire che se l'anima non fosse immortale nulla resterebbe di noi invece essendo essa immortale resta molto resta la parte migliore di noi anche degli asparagi resta molto purtroppo ma il contrario di noi non la parte migliore o più nobile anzi resta la peggiore il gambo tuttavia esso resta in misura considerevole il che non sempre avviene nel caso di altri vegetali già cotti come per esempio gli spinaci che sono interamente commestibili forse questo è l'unico punto di contatto fra l'immortalità dell'anima e gli asparagi e sono lieto di averlo trovato sia pure involontariamente per mero caso perché questo dà un contenuto positivo all'indagine che ci eravamo proposti e ci procura dei risultati che vanno oltre le più ottimistiche previsioni ma ripeto è un contatto puramente formale ed esteriore in quanto c'è una bella differenza fra l'anima e un d'asparago non solo ma questa analogia del tutto formale non è nemmeno esclusiva degli asparagi poiché anche i carciofi si trovano nella stessa situazione quanto a percentuale di scarto per concludere e terminarla con un'indagine che la mancanza di idonei risultati rende quanto mai penosa dobbiamo dire che da qualunque parte si esamini la questione non c'è nulla in comune fra gli asparagi e l'immortalità dell'anima